La morte della morte! Quello di me è tu! Cosa vorrete voi? È mio e di Romano, basta! Ma che te le dormi! C'è le donne! E le 1, 2, 3, 4 E tu, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8 No no, Romano! Fai alzare le madri a loro un cazzo la sua porzione! Circolato! Ora siamo noi che lo abbiamo aiutato! Vediamo tutti e diversi con essi! La nostra bella porzione! Capito giovane? a loro giusto perché io voglio un tre ma io e Romano mi mostro la lista una così e a loro così non lo so così non lo so dai bene